Ti piace molto la fotografia ma non capisci niente di post-produzione e non hai voglia di imparare? Questo video è pensato apposta per te. Oggi ti mostrerò tre strumenti che possono essere di grande aiuto nel momento in cui stiamo facendo delle fotografie, ma sono strumenti completamente automatici che ci permettono quindi di scattare la fotografia e disinteressarci della post-produzione. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia da tanti anni. Io la post-produzione l'ho quasi sempre fatta anche perché io nasco come grafico. Per le riviste in particolare, quindi facevo grafiche e impaginati. Ho imparato da lì e quindi la post-produzione ho imparato a farla da subito. Però so benissimo che molti che mi seguono da casa non hanno mai imparato e non hanno nessuna intenzione di imparare perché non gli interessa, vogliono solamente scattare e avere la foto già pronta. Oggi vediamo tre modi di raggiungere il vostro obiettivo, quindi quello di scattare le fotografie e di non doverle mai post-produrre perché le foto saranno già pronte automaticamente o quasi automaticamente. Però prima di cominciare vi chiedo un piccolo supporto al canale, per cui andate a iscrivervi cliccando il bottone qui sotto e mettete anche un like a questo video. Il primo strumento di cui vi parlo oggi è il menu della nostra fotocamera perché tutte le fotocamere in commercio hanno la possibilità di scattare un file grezzo, quindi un file che deve essere per forza post-prodotto, ma hanno anche la possibilità di salvare direttamente un file JPEG pronto per l'utilizzo. Ora, nel momento in cui noi andiamo dentro nel nostro menu, possiamo dire alla macchina come lo vogliamo questo JPEG. Gli possiamo dire se lo vogliamo più grande o più piccolo, se vogliamo che salvi più o meno informazioni. Gli possiamo dire che profilo colore dobbiamo impostare. Gli possiamo dire come devono comportarsi i colori, assegnando un profilo colore e uno spazio colore. In questo caso noi non vogliamo imparare a fare la post e quindi la prima cosa che vi consiglio di fare è di impostare lo spazio colore sRGB. È inutile impostare Adobe RGB 1998, che è uno spazio più grande, che servirebbe se volessimo andare a fare dei ritocchi, ma nel momento in cui vogliamo semplicemente salvare la foto e condividerla sui social, è molto meglio salvare in sRGB. Piccola parentesi, se vogliamo stamparle invece è meglio Adobe RGB, ma anche quello è un caso raro, ormai secondo me non stampa quasi più nessuno. Ditemi nei commenti se invece siete persone che ancora stampano le vostre fotografie. Oltre allo spazio colore possiamo andare a impostare anche dei profili. Abbiamo dei profili già salvati sulla macchina, per cui abbiamo i classici standard, neutrale, bianco e nero, abbiamo diversi tipi di profilo che possiamo impostare in macchina. La maggior parte delle macchine ci dà anche la possibilità di modificare questi profili o di crearne di customizzati. Per esempio io normalmente vado a diminuire il contrasto di un paio di tacche, quindi mi creo un profilo custom basandomi sul profilo standard e vado ad abbassare il contrasto. In questo modo il mio JPEG conserva più informazioni nelle alte luci e nelle ombre. È l'unica cosa che faccio costantemente per adesso. Questo e magari vado ad aumentare un pelino la saturazione in certi contesti. Però più o meno questo è quello che faccio. Ovviamente un'altra cosa di cui dobbiamo avere molta cura se scattiamo in JPEG è di impostare il bilanciamento del bianco manualmente, perché se lo lasciamo in automatico innanzitutto avremo le foto tutte diverse una dall'altra e poi spesso e volentieri potrebbero essere sbagliate o non avere comunque la resa che noi volevamo. Queste sono le cose da fare se vogliamo evitare la postproduzione direttamente in macchina avere un file già pronto. Adesso però andiamo a vedere due strumenti che possono aiutarci ad avere delle fotografie pronte e perfettamente postprodotte, ma senza muovere un dito o quasi. Il primo strumento che vi faccio vedere è il modulo di sviluppo di Photoshop stesso. Ma noi non vogliamo imparare a usare Photoshop, per cui quello che vi faccio vedere è che noi abbiamo la possibilità di andare a dire a Photoshop di prendersi carico automaticamente dello sviluppo digitale del file. Questo non significa che Photoshop renderà più belle le nostre foto, toglierà le occhiaie, ci toglierà 20 chili, eccetera. Andrà semplicemente a sviluppare il negativo digitale. Quindi gran parte del lavoro che noi non vogliamo imparare a fare verrà svolto in automatico dall'intelligenza artificiale di Photoshop. Questa è una cosa che io ho provato a fare di recente. Prima non l'avevo mai fatta, avevo un mio flusso di lavoro. Ho provato a farla di recente. Devo dire che lui ha una sua coerenza, nel senso che lo fa sempre nello stesso modo e ha un suo stile, in qualche modo, che in certi casi ho reputato migliore di quello che andavo a fare io. Quindi certe cose che sono implementate nell'intelligenza artificiale di Photoshop le ho capite, le ho fatte mie, le ho implementate nel mio flusso di lavoro. Quindi è stato anche utile dal mio punto di vista. Nel caso di chi semplicemente volesse evitare la post-produzione, è un click, ragazzi. Fate un click e lui si prende cura automaticamente della vostra immagine e di solito ci azzecca. Devo dire che la maggior parte delle volte legge correttamente la scena e ci dà un'esposizione pressoché perfetta con dei colori assolutamente corretti. Il terzo sistema di cui vi voglio parlare oggi è Luminar Neo. Luminar AI, ve lo ricordate? Skylum, Sky Replacement, quelle cose lì. Avevo portato qualche contenuto sul canale all'epoca perché avevo collaborato con loro perché avevo vinto un contest che avevano indetto e quindi mi avevano regalato una licenza per Skylum che ho ancora e ogni tanto utilizzo ancora sporadicamente. Adesso abbiamo la possibilità di collaborare nuovamente per cui mi hanno già attivato una versione prepagata del software così che io possa utilizzarlo. Nel corso dei prossimi capitoli vi farò vedere qualcosa perché è molto migliorato questo programma quindi ha un sacco di roba in più rispetto a quello che sono abituato a vedere. Io quindi devo impararlo un pochino prima di farvelo vedere. Però la cosa bella di Luminar Neo è che ha un sacco di preset con cui possiamo andare a fare delle cose in automatico sulle nostre fotografie. Quindi nel momento in cui noi importiamo delle fotografie abbiamo la possibilità di scegliere dei preset che devo dire sono fatti maledettamente bene e si adattano bene alla fotografia che gli stiamo dando in pasto. E questo secondo me in moltissimi casi può rendere la nostra post-produzione completamente inutile perché noi andiamo semplicemente dentro applichiamo il nostro preset possiamo anche salvarci un preset nostro con cose che abbiamo modificato magari troviamo un preset che è quasi perfetto ma spostiamo una robina e ci salviamo un nuovo preset dopodiché andiamo ad applicarlo su tutte le nuove immagini che gli diamo in pasto. Questi sono metodi che funzionano io li ho provati tutti e tre e vi garantisco ragazzi funzionano quindi se vogliamo evitare di fare la post-produzione oggi possiamo 100% evitare di fare la post-produzione. Le nostre foto saranno uguali rispetto che se le avessimo post-prodotte? Assolutamente no per almeno due motivi il primo motivo è che se le avessimo veramente post-prodotte avremmo potuto ottenere qualcosa di più o qualcosa di meno a seconda delle nostre abilità il secondo motivo è che i metodi automatici fanno sempre la stessa cosa più o meno quindi la post-produzione sarà sempre simile sarà difficile introdurre qualcosa di creativo perché le intelligenze artificiali fanno uno sviluppo base bello, fatto bene, corretto però non sono ancora molto creative da questo punto di vista quindi fanno sempre la stessa cosa. Vi consiglio questi tre metodi ciò nonostante perché se siete persone che non vogliono imparare a fare la post-produzione se non volete imparare vuol dire che non siete capaci a questo punto siccome la curva di apprendimento per diventare bravi a fare post-produzione con Photoshop o altri software è abbastanza lunga ci sono ottime probabilità che facendolo fare in automatico a un'intelligenza artificiale o alla macchina otteniate ora dei risultati molto migliori di quelli che otterreste da soli attenzione questo vi impedisce di imparare perché non state imparando state delegando alla macchina di questo bisogna essere consci non state imparando niente state solamente delegando alla macchina quindi non imparerete mai facendo così però oggi se avete l'esigenza oggi di fare un minimo di post su un file oggi questi sistemi vi mettono in grado di cavarvela con un'immagine che sarà più che accettabile non farete brutta figura quindi questo è il motivo per cui vi porto questo contenuto poi sapete come la penso io la post preferisco farla anche quando mi avvalgo di sistemi di intelligenza artificiale per svolgere dei compiti al posto mio vado comunque a controllare a muovere qualcosina dopo perché non mi va mai bene 100% quello che mi trovo già fatto io ho un mio stile un mio flusso di lavoro e quindi vado poi a metterci le mani questa sarebbe la perfezione secondo me il consiglio che do anche a voi è provate a farlo in automatico però poi provate a toccacciare qualcosa magari andate a migliorare qualcosina e fate più vostra l'immagine questo vale per tutti i metodi di cui vi ho parlato nel video di oggi fatemi sapere in un commento se ce ne sono altri che mi consigliate di portare sul canale se ce ne sono alcuni che vi stanno provocando difficoltà e su cui volete approfondimenti oppure se preferite fare tutto quanto a mano come si faceva una volta cosa che francamente preferisco fare anch'io quando si tratta di foto mie a cui tengo signori io non mi dilungo vi ricordo però di iscrivervi al canale vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video ciao